Sì, è importante che adesso abbiamo vinto questa partita, era difficilissimo per noi di giocare perché non abbiamo avuto tanto ritmo nel side out, solo nel quarto set abbiamo fatto secondo me un side out, penso, per adesso, però all'inizio nel primo set per esempio abbiamo subito 8 S e così non puoi giocare, oggi sono felice che abbiamo fatto una bella fase break per vincere questa partita Ti sei meritato di avere sempre il muro a tre davanti, ormai le squadre avversari ti cercano, ti marcano Per me va bene, sono un attaccante, a volte va bene, a volte va non bene, però oggi abbiamo vinto, questo è importante Ti dico un'ultima cosa, giocate di continuo, giocate contro Milano domenica, vi aiuta anche il fatto di giocare continuamente giocare ogni tre o quattro giorni in questo momento un po' strano della vita, anche del mondo? Sì, è così, noi giochiamo quando dobbiamo giocare, non so se aiuta Siamo anche un po' stanchi adesso, però per la domenica ci siamo sicuri Moris, queste due vittorie in tre giorni, dopo la sconfitta di Monza, erano fondamentali quasi, cosa vi danno? Sì, come hai detto erano importanti, questi due vittorie, cosa ci danno? Un po' di fiducia, adesso possiamo un po' respirare e possiamo focalizzarci per la domenica Grazie